Una nuova iniziativa dell'Avis di Villadogna per incentivare l'arrivo di nuovi donatori, che cosa avete pensato? Abbiamo fatto una bella promozione per i giovani, ci sono dei buoni pizza in cui un giovane avvisino, anche un qualsiasi avvisino, porta un nuovo donatore all'Avis di Villadogna, cioè iscriversi all'Avis di zona 4, diamo un buono pizza da bono, per me è una bella iniziativa per iniziare ad avere un po' di giovani al centro di raccolta. Quindi chi porta un nuovo donatore avrà diritto a una pizzata, una serata in pizzeria? Sì, questo è proprio perché abbiamo fatto questa iniziativa, sicuramente una copia, anche più di una copia, o anche magari marito e molli, fidanzato e fidanzata, due giovani, che uno è già donatore, sicuramente lo porta al punto di raccolta iscriversi, noi daremo un buono pizza da bono, in modo che fanno anche loro una buona serata, è una maniera anche di conoscere l'Avis, ma soprattutto di avvicinare i giovani. Tra l'altro l'Avis di Villadogna ha un sito che sta funzionando molto bene, avete ricevuto recentemente anche i complimenti dell'Università di Parma. Sì, ecco, soprattutto per i giovani sarebbe giusto e utile visitarlo, il nostro sito è www.avisvilladogna.it, è bello, diciamo, io lo posso dire perché sicuramente è visitato da tanti, ma da molti, è fatto bene, è visitato, c'è anche tanta musica, c'è filmati, tante cose importanti per l'Avis. Franco Scandella è anche consigliere provinciale dell'Avis, c'è un'importante novità a livello provinciale che riguarda la donazione di cellule staminali da cordone umbilicale. Sì, questo è stato accreditato all'Avis provinciale, sotto richiesta dal regionale e della regione Lombardia, è l'unica, è l'unica Avis provinciale o Lombarda che ha questa iniziativa raccolta di cellule staminali di cordone umbilicale e per me, per tutti sicuramente è un buon successo. Iniziativa che verrà presentata sabato? Sì, allora sabato 20 al pomeriggio ci sarà una commissione, praticamente nell'Assemblea generale dell'Avis provinciale verrà presentata questa bella cosa, sicuramente sarà un gran successo. Grazie.